Aule per le attività di formazione, una scuola di musica, uno studio di registrazione, una radio, il tutto distribuito su due livelli, su una superficie di circa 400 metri quadrati. Avviati lo scorso mese di marzo procedono senza sosta i lavori di costruzione della scuola di formazione solidale Associazione Casertana che in Senegal, in sinergia con l'associazione Ollus Lesan Fandornella, ha scelto di realizzare una scuola di formazione professionale, non senza la solidarietà di migliaia di persone che nei mesi scorsi hanno partecipato alla raccolta fondi ad otto o mattone. La scuola si prepara ad ospitare oltre che a delle aule studio anche la sala musicale dove i bambini potranno gratuitamente seguire corsi di musica e uno studio di registrazione nonché una radio. Per la realizzazione della struttura l'associazione casertana si abbassa della collaborazione di architetti d'eccezione come ad esempio l'architetto Cherubino Gambardella, già docente ordinario di progettazione architettonica alla Sun, apprezzato da critici e intellettuali d'architettura di tutto il mondo, autore di libri, saggi, cataloghi e riviste europee insieme al brillante ideatore ed esperto di architettura anche Antonio Balzamo, Lorenzo De Rosa, Marco Pignetti, Salvatore Scandurra della Sun. Intanto non si ferma la macchina organizzativa di formazione solidale guidata dal presidente Angelo Agnisola che preannuncia un nuovo evento di raccolta fondi in programma in estate, una giornata di musica e tante sorprese.